Alveglia Teatro Festival in scena una delle più famose orazioni giudiziarie dell'antica Grecia, l'Isia e stasera l'ultimo appuntamento del programma. Lili Viccaroteo. Quando decisi di sposarmi e presi moglie, Ateniesi, nei primi tempi mi comportavo in modo da non infastidirla, ma neanche da lasciarla troppo libera di fare quello che voleva. La sorvegliavo per quanto era possibile. Insomma, come è naturale, tenevo gli occhi aperti. Considerata l'orazione giudiziaria per eccellenza, per l'uccesione di Eratossene di Lisi è diventata una piesa di continui rimandi tra parola e retorica, passato e presente, storia e contemporaneità. È successo a Marina di Ascea, dove per Velia Teatro Festival il discorso della difesa dell'ingenuo contadino Eufileto che uccise il seduttore della moglie è stato interpretato dall'attore Gianluigi Tosto e declinato dal professore Emanuele Stolfi, docente di diritto antico ed ordinario dell'Università di Siena in una serata coinvolgente ed emozionante che ha puntato sulle parole chiave dell'orazione come giustizia. Giustizia come un grande show, qualcosa che è al contempo modernissimo ma anche antichissimo fin dalle scene di processi descritte da Omero fino poi appunto a questo grande testo della sapienza retorica ateniese di inizio IV secolo. Un po' un esperimento davvero particolare. Sono molto contento che ci sia stata questa possibilità. che mi pare abbia funzionato piuttosto bene, speriamo di poterla riprendere anche in futuro.